Ciao! In questo programma audio ti darò alcune dichiarazioni di ricchezza molto potenti per aiutarti ad avere successo nella vita, nel campo della finanza e benessere finanziario. Cos'è una dichiarazione? È semplicemente un'affermazione positiva che fai ad alta voce. Le dichiarazioni non inviano solo un messaggio specifico all'universo, inviano anche un messaggio potente al tuo subconscio. Ora, mentre vi do ciascuna di queste dichiarazioni, ci sarà un momento di pausa, dove è possibile ripetere l'affermazione o lasciare che essa scorra dentro di voi. Quindi, iniziamo! Creo la vita dei miei sogni. Sono un essere umano inarrestabile. Sono un'autodidatta. Mi piace mettermi in gioco. Sono una persona motivata ed energica. Sono fiero di me stesso. Sono un corpo potente, una mente potente e un'anima potente. Dico la mia parola con sicurezza. Sono una persona felice. Mi godo la vita e la vita è buona con me. Ogni giorno porta nuove, incredibili opportunità. Eccello in qualunque cosa faccia. Ho un'aspettativa positiva. Sono in pace con il mondo che mi circonda. Ho forza interiore e fiducia per vincere. Sono ottimista e pieno di entusiasmo. Realizzo di più in meno tempo che mai. Raggiungo i miei obiettivi senza sforzo. Amo e sono amato in modo sincero. La mia vita è piena di armonia e felicità. Ho una mentalità di ricchezza e abbondanza. Creo facilmente grandi ricchezze. L'abbondanza. È il mio stato naturale. Sono una calamita per le persone e il denaro. Il denaro scorre verso di me facilmente. Frequentemente e abbondantemente. La prosperità è mia. E me la merito. E me l'aspetto. Va bene fare più soldi di mia madre e mio padre. Va bene superare ogni aspettativa. Conosco il mio valore. Onoro il mio valore. Sono degno di ricevere l'abbondanza. Sono aperto a ricevere più soldi e successo. Sono aperto e ricettivo all'abbondanza assoluta e continua. Idee creative per denaro e successo derivano da me. Perseguo l'abbondanza con passione. Ovunque guardo, vedo abbondanza. Sono eternamente grato per ciò che ricevo. Il denaro è energia positiva che si prende cura dei miei bisogni e desideri. Il mio reddito è in costante aumento. Sono una risorsa positiva e le persone amano fare affari con me. Creo ricchezza con onestà e integrità. Qui ed ora attraggo facilmente prosperità e abbondanza in ogni aspetto della mia vita. Tutto ciò che tocco mi restituisce ricchezze. Sono finanziariamente libero. Più soldi ho, più soldi posso usare per aiutare me stesso e gli altri. Il mio lavoro viene sempre riconosciuto positivamente. L'abbondanza è il mio stato naturale d'essere. Lo accetto adesso. Sono un genio degli affari. Sono creativo e faccio scelte aziendali efficaci. I soldi arrivano da me in modi previsti e inaspettati. Mi do il permesso di vivere una vita abbondante. Amo i soldi e il denaro mi ama. Ho una grande abilità nel gestire le mie finanze e avere sempre soldi in abbondanza. Mi sento molto a mio agio con grandi somme di denaro. Rilascio tutti i dubbi, le paure e convinzioni negative sul denaro. Vivo una vita di opportunità e possibilità. Trovo sempre la strada per il successo. Attiro sempre i clienti giusti al momento giusto. Ho assoluta certezza nelle mie capacità di generare qualsiasi importo di reddito che scelgo. Sono disposto a lasciare andare la paura e vivere in armonia tutta la vita. Rilascio tutte le mie convinzioni passate che mi hanno impedito di diventare ricco. Scelgo di avere successo in ogni area della mia vita. Ho successo in tutto ciò che faccio. Sono fiducioso della mia capacità di avere successo. Imparo facilmente e velocemente le lezioni che la vita mi presenta. Accolgo con favore la libertà nella mia mente. Sono aperto a tutte le possibilità. Sono sempre nel posto giusto al momento giusto. Ho un'acuta capacità di apprendere nuove abilità che supportano il mio successo. Accetto ogni cambiamento e lo uso per il mio bene. Amo e rispetto me stesso e questo mi permette di avere relazioni arricchenti. Sono grato per ogni giorno che vivo. Riconosco le benedizioni che ho ricevuto nella mia vita con gratitudine. Possiedo la saggezza, il potere, la motivazione, l'ispirazione e la passione per realizzare qualsiasi cosa e tutto ciò che scelgo. Prospero in salute, prospero nelle finanze, prospero in amore, prospero in pace. Ascolta questo programma ogni volta che sei da solo, in macchina o mentre dormi. Scegli di potenziare la tua mente ogni momento che puoi. Scegli di diventare la miglior versione di te stesso. È un piacere aiutarti in ciò. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.